Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi commentiamo solo parzialmente la giornata perché mancano delle partite però non volevo lasciarvi in sospeso. Domani si parla di Champions per forza di cose. Quindi un minimo di due parole le volevo fare. Prima di iniziare però vi ricordo che questi video sono offerti da FCMagna.com che è un e-commerce che vende magliette e articoli sportivi. C'è anche una bella promo natalizia, trovate tutto in descrizione. Oggi vi mostro un articolo diverso rispetto al solito, ovvero le felpe. Questa è una felpa del Paris Saint Germain in partnership con Jordan, ne hanno fatte migliaia. Però ecco, so che io l'ho presa più per farvela vedere, però so che a tanti ragazzi piacciono. Quindi ci sono anche queste tipologie di articoli, trovate tutto in descrizione, compreso ovviamente il codice sconto. Tornando a noi, una classifica che sta incominciando a prendere una piega. E chi sa, ce la sa coi numeri, incomincia a tirar le somme. Oggi per esempio, il mio amico Giovanni Armanini, Penali One Football, scrive sul suo Twitter, lui è tifoso juventino, ci sono poche tabelle da fare, se vuole andare in Champions League da Juventus deve vincere 19 delle prossime 22 partite. Magari ne bastano 18, ma non si sa mai. Quindi, di base, servono 78-81 punti ed è più o meno questo il trend. Poi possiamo anche discutere che questo trend si sta alzando sempre di più. Qualcuno dice perché ci sono delle squadre cuscinetto. Qualcun altro invece racconta che, insomma, è una tendenza che si porta avanti da quando il campionato era 18 squadre. Sta di fatto che già in casa Juventus, chi è lungimirante si sta facendo i conti e si sta rendendo conto che la faccenda è più complicata del previsto. Non impossibile, ripeto, perché io ho visto perdere 9 punti in 4 giornate, però è più complicata del previsto. Questo andrà a creare, secondo me, dei meccanismi ben diversi. Perché, da un lato, hai diversi umori in questa classifica. Guardiamola dalla posizione numero 8, non si offenda il Bologna. Sicuramente Lazio e Roma non sono soddisfatti di questi 25 punti che rischiano, tra l'altro, di valere poco o niente. Perché per tre posizioni al momento hai Lazio, Roma, Fiorentina e Juventus. Quindi una guerra abbastanza fratricida, in cui una squadra forte rimane fuori. C'è sempre lo slot Coppa Italia, per carità, però... Già lì, secondo me, è bella complicata come missione. E aver già perso determinate prerogative, perché comunque tu a 24-25 punti la Champions non la puoi mettere come obiettivo. Cioè, devi fare un campionato a sé stante, abbassi la testa, tiri dritto, poi se ci arrivi bene, se non ci arrivi, pace. Però non puoi metterti come obiettivo la Champions. D'altro canto, invece, sopra, c'è una situazione che, da un lato, è tranquilla, ma dall'altro è molto, secondo me, diversa negli umori. Perché c'è un'Atalanta che, lo dice il trend, viene da 5 vittorie di fila. E non a caso, comunque, noi anche nella live abbiamo lasciato trasparire un certo entusiasmo, perché obiettivamente 5 giornate di fila, 5 vittorie di fila, raccontano qualcosa di importante, raccontano qualcosa che va assolutamente da sottolineare. Se vedete, invece, l'andazzo del Napoli, è ben diverso. Poi, ripeto, il Napoli ha fatto una buona partita, ha avuto giocatori fuori, grande onore, però nelle ultime 5 partite ne ha perse 2, ne ha pareggiate 2, ne ha vinta solo una. E non è un grande andazzo. L'Inter, che secondo me è, veramente, la squadra che è entrata a pieno regime, si porta a casa 4 vittorie, è un pareggio nelle ultime 5 partite. Il Milan, due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Insomma, sta succedendo grossomodo quello che avevo detto nei video vecchi, quando rispondevate, gne, 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 ovvero, che il Napoli e il Milan non potevano vincerle tutte. Era contro ogni logica statistica. Voi mi dicevate, non è possibile, e di fatto, invece, ecco la risposta. L'altra cosa che secondo me è molto interessante da vedere sono le differenze reti. Milan 35-18, Inter 39-15, Napoli 34-12, Atalanta 35-19. Non è che ballano risultati così diversi. Cioè, negli altri anni, per esempio, comunque da quel dato qua, vedevi qual era la squadra forte, 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 qual era la squadra che invece magari era lì perché aveva imbroccato un paio di partite. Invece qua la storia, ci sta raccontando che bene o male le squadre stanno giocando tutte allo stesso modo e la cosa quindi ha un peso. Pari, Atalanta 34, Napoli 36, Inter 37, Milan 38, ragazzi, sono tutte lì. E quindi questa differenza di umori secondo me può avere anche delle implicazioni. perché comunque qualcuno, cioè, di aver perso tutti quei punti, un po' ti gira, un po' ti gira. Io credo che questo sia il sintomo di un bel campionato, non di un brutto campionato, come qualcuno insista a dire, dicendo che quella roba qua vuol dire semplicemente che il campionato si è livellato al basso. Io credo che invece sia un ottimo risultato, sia un ottimo, sia un ottimo anche racconto, è anche un bel modo di seguire, perché obiettivamente se no sai che noia. Sono curioso di vedere come va a finire, perché oggi tutti si stanno affidando ovviamente alle medie, alle ritme, a quello che di fatto poi raccontano i dati storici, cioè di un'Atalanta che nel gelone di ritorno fa molto molto meglio delle altre, quant'altro io credo che forse arrivare a quel punto è un po' lunga, però anche lì noi l'avevamo detto, già guardando le tabelle, che l'Atalanta sta vantando molto bene. E quindi vediamo se questa sarà una competizione a quattro di tantissime giornate, di fatto di 21 giornate, oppure se nel corso delle prossime settimane ci saranno dei grandi crogli e qualcuno che torna alla ribalta. Secondo me è troppo presto per cantare il funerale di qualche squadra dal quinto posto in giù, quantomeno ovviamente per la zona Champions, però c'è un vantaggio che ti deve assolutamente garantire la possibilità di giocare con una certa serenità, perché poi di fatto l'organico di tutte quelle squadre è forte, io non credo, credo che l'unico organico nettamente più forte degli altri sia quello dell'Inter, ma nemmeno di tantissimo, però sì, secondo me è molto più forte, gli altri meno male si equivalgono almeno quando giocano ai livelli medi, di conseguenza c'è un racconto che può prendere una piega diversa. Mi basta dire questo, ci tenevo davvero a farvi un appunto perché poi da domani si parla ovviamente di Champions, quindi diventavo un po' anacronistico il racconto, spero di avervi intrattenuto con questa breve analisi, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale perché è molto importante, mi aiutate a diffondere meglio i contenuti e per il resto ci vediamo nel prossimo video. Ciao!